Un problema comune che sicuramente avrete tutti voi riscontrato sarà il problema delle immagini un po' troppo mosse e movimentate, là dove magari non era strettamente necessario. L'effetto di cui andiamo a parlare ora è proprio l'effetto che può risolvere tutti questi problemi, o se non tutti, diciamo la grande maggior parte. L'effetto è l'effetto di stabilizzazione e qui davanti a voi ne potete avere un esempio. Sulla sinistra la prima immagine, la prima ripresa, è la ripresa originale e sono visibili numerosi difetti di tremolio dalla mano, di una ripresa tipica fatta a mano senza alcun tipo di stabilizzatore in macchina. Dall'altra parte invece a destra abbiamo la stessa ripresa però con l'effetto di stabilizzazione applicata. Possiamo vedere come nonostante sia una ripresa fatta a mano ci sia maggiore fluidità nel movimento. Premiamo E accentata e torniamo quindi a Premiere Pro rimpicciolando la finestra. Vediamo come sia possibile quindi applicare l'effetto di stabilizzazione per ottenere questo tipo di risultato. Partiamo naturalmente dalla clip incriminata, quindi ingrandiamo leggermente la timeline, e questa è la clip problematica. Non sto neanche a ricordare che meglio di una stabilizzazione è meglio portarsi un cavalletto o cercare di ottenere riprese stabili, ma là dove la ripresa non poteva essere fatta con un cavalletto oppure magari è una ripresa fatta a mano, l'effetto di stabilizzazione potrà rivelarsi realmente utile. Andiamo negli effetti. Se non vi viene in mente dove si trova l'effetto di stabilizzazione, basterà cercarlo, quindi stabilizzatore alterazione è l'effetto che ci interessa. Si trova sotto effetti video, distorsione, stabilizzatore alterazione. L'applicazione come al solito è semplice, click e trascino sulla clip, oppure doppio click e l'effetto viene applicato. Nel momento in cui l'effetto viene applicato, inizia un'analisi in background, quindi in sottofondo, diciamo così, per il nostro computer, in modo che siamo liberi di continuare con le nostre attività. Potremmo infatti andare avanti e proseguire nel montaggio. Una volta terminata l'analisi in background, sarà pronta la clip per essere visionata. Alcune note importanti da tenere in considerazione quando applichiamo l'effetto di stabilizzazione è ovviamente il fattore tempo, cioè quanto tempo impiegheremo a stabilizzare una clip. In questo caso una clip di pochi secondi, come vedete in formato Full HD, ha richiesto circa un minuto e trenta, un minuto, grosso modo. Possono sembrare tempi biblici, se paragonati alla durata della clip in sé. Tutto sommato, se pensiamo alla qualità e al risultato che riusciamo ad ottenere, non è così una grande perdita di tempo, soprattutto se pensiamo al fatto che possiamo continuare a lavorare al nostro montato grazie all'analisi in background. È importante tenere conto anche che l'effetto viene applicato soltanto alla clip presente in timeline. Quindi qui, in questo caso, abbiamo delle vaniglie al di sotto della clip. Tutto il contenuto della clip che non è visibile in timeline non verrà stabilizzato. Quindi là dove avete una clip magari di anche svariati minuti, non vi preoccupate perché soltanto i pochi secondi che avete in timeline verranno effettivamente stabilizzati. Passiamo adesso a vedere quali sono le opzioni che ci possono interessare all'interno dell'effetto di stabilizzazione. Tenete presente che, grosso modo, per ottenere già un buon risultato, l'effetto di stabilizzazione è già pronto così com'è, potremmo dire. Quindi già l'effetto così come viene applicato risolve la stragrande maggioranza delle problematiche. Ma se voleste andare a lavorare un po' più nello specifico, ci sono alcuni parametri che ci possono interessare. Il primo fra tutti, e secondo me il più importante, è il valore di uniformità. Uniformità è un valore molto semplice da modificare perché va da 0 a 100, ma è estremamente versatile. Può capitare infatti a volte di aver fatto delle riprese mosse, volutamente mosse, una camera a mano, pensiamo ad esempio, ma è uscita un po' troppo a mano, quindi è un po' troppo enfatizzato il movimento. Grazie all'uniformità potremmo far entrare maggiormente l'effetto, quindi far calcolare ancora di più il valore di stabilizzazione, in questo modo avremo una ripresa ancora più fluida, oppure abbassare completamente il valore, e in questo caso avremo un effetto che è poco presente, quindi avremo sì una camera a mano leggermente stabilizzata. Come vedete questo è sicuramente il più importante fra tutti i valori, senza entrare troppo nel dettaglio super tecnico delle modalità avanzate, eccetera. Già con questo, grosso modo, ci siamo risolti buona parte dei problemi. Un altro aspetto importante è il metodo che viene utilizzato. Alterazione sottospazio è la modalità predefinita che utilizza Premiere Pro per la stabilizzazione, ed è la più complessa e la più completa, che non necessariamente vuol dire quella che va bene sempre e la migliore in assoluto. Alterazione sottospazio, da cui potremmo scegliere poi eventualmente altri valori, è la modalità più interessante per riprese complesse. Un esempio potrebbe essere questo, dove abbiamo un movimento sull'asse, abbiamo un cambio di prospettiva perché la camera si muove leggermente, abbiamo delle oscillazioni svariate. In questo caso, alterazione sottospazio tiene conto di tutti i valori che entrano in gioco nella scena, ma là dove abbiamo un semplice movimento sulla posizione, o posizione a scala di rotazione o prospettiva, è sicuramente più indicato scegliere uno di questi tre tipi di applicazione. Questo perché non vuol dire che alterazione sottospazio essendo in fondo la lista ed essendo il migliore e il più complesso, può andare sempre bene. Là dove avremo degli effetti di movimento, là dove avremo dei tremolii dovuti solo alla posizione della nostra macchina da presa, il valore posizione sarà più adeguato. Guardate cosa succede se utilizzo, ad esempio in questo caso, posizione, là dove avevo una ripresa più complessa. Guardate come la ripresa sembra deformare i piani a un certo punto. Sembra che questi alberi vengano verso di noi e poi scattino all'improvviso. Ecco, questo è proprio quello che potrebbe succedervi nel caso in cui utilizzaste posizione o alterazione sottospazio o uno di questi valori laddove magari era richiesto un altro tipo di valore. Se vi trovate in situazioni del genere, state attenti a modificare correttamente questi valori. Qui l'unico consiglio che vi posso dare è alterazione sottospazio può andare bene nella maggior parte dei casi, proprio perché può essere una camminata, una macchina in corsa, può essere una camera a mano. Là dove invece magari abbiamo il posizionamento sempre fisso, piuttosto che una leggera rotazione o scalatura o un cambio di prospettiva, questi funzioneranno sicuramente meglio. Con la voce bordi e inquadratura potremmo scegliere come far agire lo stabilizzatore. Lo stabilizzatore agisce su vari fronti. Potremmo far fare solo una stabilizzazione. In questo caso guardate come il quadro viene mosso all'interno del fotogramma per movimentare, per sembrare che tutto torni al suo posto, per non far vedere che cosa si muove. Vedete che ci sono degli angoli che vengono mossi. Oppure potrei applicare la stabilizzazione e il ritaglio. In questo caso otterrei un leggerissimo ritaglio che serve proprio per mascherare ciò che stiamo muovendo. Oppure infine stabilizzare il ritaglio a scala automatica andrà a scalare di questa leggera percentuale, dell'1-2%, in questo caso, al fine di riempire completamente il fotogramma. Se volete essere sicuri di non scalare troppo la vostra immagine per non deteriorare eccessivamente la qualità finale del vostro risultato, potrete scegliere di avere una scala automatica massima entro certi valori. In questo caso sarete certi che la scala non potrà andare oltre il 150%, ad esempio. Diciamo che il valore di 150% può essere un buon valore limite perché oltre prenderemo troppo di qualità e probabilmente la ripresa, se necessita una stabilizzazione con scalature oltre il 150%, c'è da chiedersi se effettivamente valga la pena di vedere quella roba oppure forse è meglio lasciarla a casa. Un ultimo tipo di inquadratura, di modifica dei bordi è stabilizza e sintetizza i bordi. Qui si va un po' nella fantascienza, nel senso che è grosso modo un'invenzione che fa Premier Pro dei bordi mancanti, quindi quei 1-2% di pixel mancanti, Premier Pro in questo caso li inventa di sana pianta. Può andare bene con cieli uniformi laddove la scalatura è minima, quindi 1-2-3-10%, quando avremo scalature più importanti, nell'ordine del 15-20-30%, questo tipo di sintetizzazione dei bordi non funzionerà propriamente bene. Può essere utile per non effettuare nessun tipo di scalatura, avere un'immagine al 100% e tutto sommato camuffare la mancanza di pixel con un'invenzione digitale, un'invenzione sintetica fatta da Premier Pro. All'interno delle modalità avanzate, dei parametri avanzati, dell'effetto di stabilizzazione, l'unico aspetto così che vi voglio mostrare è quello di nascondere il banner di avvertenza. Nascondere il banner di avvertenza permetterà di mostrare o di nascondere il banner che ci avverte là dove stiamo effettuando la stabilizzazione. Vi sconsiglio, ma non per cattiveria o per sfiducia, ma perché, dal mio punto di vista, un'analisi dettagliata si può essere magari più affinata in alcuni casi, ma non risolverà cose impossibili da stabilizzare, vi sconsiglio appunto di addentrarvi troppo nei parametri avanzati di questo effetto. Se la stabilizzazione funziona, già funziona con questo tipo di valori, quindi già funziona con un valore predefinito. Addentrarvi troppo nelle modalità avanzate, dal mio punto di vista, può rischiare di essere una perdita di tempo quando magari bastava fare una buona ripresa o rifare eventualmente quella ripresa. L'effetto di stabilizzazione è una novità di CS6, presente da questa ultima release, presente prima con After Effects CS 5.5 ed oggi totalmente integrata all'interno di Premiere Pro.